Allora, intanto bentrovati, bentrovati a questa live, insomma, in un momento che è particolarmente complesso. Insomma, ci troviamo ad affrontare una cosa inedita, complicata e che sta di fatto mettendo un po' alla prova le nostre aziende, piccole e grandi, e soprattutto siamo un po' in ballo dell'incertezza, del fatto che non sapremo quando questo blocco delle attività insomma verrà meno e soprattutto che tipo di scenario ci ritroveremo poi a dover affrontare. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di insomma cominciare a coinvolgere un po' di aziende per ottenere consigli pratici per la gestione ordinaria delle nostre attività e capire che è valore insomma poter portare e poter trarre dal digitale, perché oggi dobbiamo colmare se c'è ancora il gap di digitale per riuscire a portare avanti le nostre attività. Ci sono tanti casi positivi di agenti immobiliari che stanno utilizzando il digitale per fare grandi cose, ma non è ancora abbastanza, insomma dobbiamo continuare a lavorarci perché c'è ancora una certa resistenza. Comunque, bando alle ciance, noi oggi abbiamo tre ospiti illustri che ringrazio per la partecipazione, c'è Mario Franci di casa.it, buongiorno Mario, ciao, Tiziano benvenuti di Make Money Organization, Tiziano ben arrivato. Grazie a tutti voi, grazie Gerardo. E l'amico Paolo Managò di Agimo Online, ciao Paolo. Ciao Gerardo, ben trovati a tutti. Bene, benissimo. Allora, cominciamo da così, per romper un po' il ghiaccio. Uno o due consigli pratici che possiamo dare agli agenti immobiliari che in questi istanti insomma sono un attimo frizzati, un po' rallentati nelle attività. Paolo, vuoi iniziare tu? Molentieri, diciamo che in questo periodo pazzesco, veramente inaspettato, fortunatamente ci sono anche tanti consulenti, tante persone che stanno cominciando a dare anche dei consigli interessanti. Quello che troviamo che sia utile in questa fase è, tra virgolette, testa permettendo, perché chiaramente siamo anche un po' distratti dalle notizie, ma cercare un attimo di concentrarsi nel capire qual è un tipo di attività che può essere svolta in un momento in cui sostanzialmente col proprio lavoro principale si sta fermi, perché chiaramente le visite agli immobili non si possono fare, eccetera, e quindi trovare delle vie alternative. È un po' il consiglio che stanno dando tutti in questo momento, quindi diciamo che il digitale è molto in aiuto, nel senso, ma anche non digitale, cioè l'opportunità di mettersi a tavolino e magari pianificare o approfittare per fare della formazione o approfittare per utilizzare i propri strumenti che si ha a disposizione, generalmente nelle agenzie ci sono, per quelle attività che solitamente non si fanno perché non si attenzione a farle, quindi magari il marketing, diciamo tutte quelle attività alternative che sono un corollario alla principale attività e che possono essere, magari ci si può dedicare anche più tempo in questo periodo proprio per svolgerle. È chiaro che non bisogna nascondersi dietro gli stuzzicadenti, il business principale, l'attività principale è di fatto ferma, quindi diciamo questo è un fattore che chiaramente distrae molto e demoralizza anche molto, nel nostro caso stiamo parlando proprio nello specifico di agenti immobiliari, ma direi diciamo in generale un po' tutte le attività che sono state colpite in maniera importante da questa situazione veramente di emergenza. La cosa che si consiglia sempre e principalmente è quella di cercare di non perdere la testa, è facile anche essere sconfortati da una situazione del genere, ma cercare di capire quelle che sono le attività che spesso appunto sono dei corollari che possono essere implementate in questo periodo. È un consiglio molto generico, ci rendiamo conto che va bene per gli agenti immobiliari ma anche non solo per gli agenti immobiliari, ma questo credo che sia il fuoco di quello che bisogna fare in questo momento e quindi cercare di dare attenzione ad altre attività che poi sono congeniali, anche perché lo accennavi tu stesso non si può fare in questa situazione, quindi diciamo si può fare una programmazione in linea generale della propria attività, ma chiaramente anche è una situazione che si evolve di continuo, quindi bisogna anche un attimino stare un po' allerta con le notizie che arrivano tutti i giorni per cercare di capire anche quando è il momento di approfondire certe attività e altre no. Se vuoi andiamo anche un po' nello specifico insomma di quello che fanno i nostri clienti. Io guarda, credo che dovremmo porci intanto due domande che ho sentito stamattina durante un webinar molto interessante e che sono insomma dove siamo adesso e quali sono le azioni che possiamo compiere. Cioè è chiaro che non possiamo influire, non possiamo influenzare la situazione, il macro problema, di certo possiamo influire invece sulla nostra attività quotidiana, capire quali sono gli attrezzi del mestiere da tirare fuori e quindi immagino che Paolo, tu avendo tanti agenti come clienti, gli agenti usano il tuo gestionale o un gestionale qualunque, quindi hanno un'anagrafica, quindi per esempio l'utilizzo della newsletter diventa importante oggi per entrare in punta di piedi in casa delle persone, magari dei clienti già acquisiti, per ricordare loro che comunque alcuni servizi rimangono attivi. Questa è una situazione pratica, una soluzione pratica per mantenere la relazione attiva con i clienti, non credi? Certamente, a tal proposito giorni fa abbiamo fatto, proprio nei primissimi giorni della chiusura totale, abbiamo fatto un articolo, un po' riprendendo anche un articolo che avevi pubblicato tu, abbiamo preso ispirazione dando anche qualche consiglio specifico ai nostri clienti che utilizzano Agim, quindi diciamo il nostro gestionale. Abbiamo fatto presente quelle che sono le attività che possono essere fatte in questo periodo, voglio dire alla fine tanti strumenti di marketing all'interno del gestionale che possono essere sfruttate in delicatezza in questo periodo, perché anche fare una campagna commerciale o comunque utilizzare gli strumenti di marketing in questo periodo in cui la gente è molto spaventata e bisogna anche farlo in una certa maniera. Ho visto proprio oggi delle comunicazioni, delle pubblicità sui media a livello nazionale che sfruttano, basano molto la delicatezza del comunicato dicendo ad esempio, facciamo nomi quindi non penso ci siano problemi, Unieuro, proprio ho visto una pubblicità poco fa di Unieuro dove dice sostanzialmente il messaggio era torneremo piano piano, nel frattempo vi siamo vicini in questo momento, ecco che non c'era la promozione della lavatrice o cose di questo tipo, però ecco ci sono strumenti anche all'interno di Agim per poter fare un certo tipo di comunicazione verso i clienti e sono strumenti ed è un'attività di marketing anche quella se vogliamo, ma ci sono anche altre attività che possono essere fatte con Agim o comunque con qualunque gestionale di fascia professionale che permette l'utilizzo di usufruire di certi strumenti, quindi anche l'analisi dell'attività svolta in agenzia, l'analisi dei collaboratori, quindi le statistiche, andare a vedere dove sono i punti di forza e i punti di debolezza, sono cose che vengono fatte magari dai più virtuosi, vengono fatte in maniera un po' più regolare, un po' meno regolare da chi magari non ha molto tempo oppure capta che la sua attività principale è un'altra e non è quella di fare ogni tanto fermarsi, fare un resoconto dell'attività, ci sono anche altre attività che adesso stanno andando molto, io passo le giornate in webcam in sostanza perché adesso ci sono… come tutti… come tutti, ma insomma il digitale ci viene incontro da questo punto di vista, quindi è proprio l'ideale, ciò non toglie che anche questo può essere fatto da un agente immobiliare nei confronti di un cliente con cui magari ha una trattativa in corso un po' più avanzata, per cui il cliente comunque è in una fase della trattativa che epidemia o non epidemia ha bisogno magari anche di risposte, ecco però diciamo c'è la possibilità anche di connettersi con Skype o con qualsiasi altro strumento… far sentire la propria presenza alla clientela in questo momento, ripeto, con molta delicatezza perché ci vuole molta delicatezza di panico, può essere un'attività che a lungo termine, una volta usciti poi perché prima o poi ce ne usciremo, può tornare assolutamente utile, invece fermarsi… guarda ti do un dato, te lo do in tempo reale perché qua abbiamo uno screening, non so se si vede, delle agenzie connesse in questo momento su Agim, noi ne abbiamo 1200 di agenzie, in questo momento ce ne sono 100, che è un dato veramente bassissimo, è proprio un dato in tempo reale questo, è sbagliato però fermarsi completamente, questo è il messaggio che stiamo cercando di dare ai nostri clienti, quindi cercare di trovare delle attività alternative anche attraverso l'utilizzo degli strumenti, ma ci sono anche altri due illustri ospiti… Entriamo nel dettaglio adesso, ok… Credo che possono confermare questa informazione, l'analisi dei portali, insomma tante cose possono essere fatte… Va bene, Mario Franci, Casa IT, portali oggi sono sicuramente al centro dell'attenzione perché di fatto siete una vetrina operativa 24-7, quindi sicuramente avete dati anche sul comportamento dei vostri utenti, cioè capire se c'è comunque attenzione da parte del mercato, nei confronti dell'immobile, se la voglia di acquistare casa c'è, oppure in qualche modo è venuta meno, questo insomma è un dato che vorremmo in qualche modo avere insieme a un consiglio pratico che sicuramente tu puoi dare avendo a che fare con tantissimi agenti immobiliari. Sì, allora siamo in un business che per fortuna da un lato non ha assolutamente un bisogno di fisico, neanche nei tempi normali, nel senso che siamo un portale, la gente utilizza il nostro portale stando in giro per strada, seduto in macchina a casa, ma insomma il nostro servizio non ha bisogno di contatto fisico e nello stesso tempo, come oggi tutti i marketplace digitali in realtà paradossalmente potrebbe anzi tornare utile, in un certo senso è un'attività quella di guardare le case, di guardare la nostra prossima casa o decidere di vendere la propria, è un'attività che si può fare tranquillamente anche stando a casa. Noi vediamo onestamente un'attività ridotta rispetto alle medie normali, ma stiamo ancora parlando di milioni di utenti, ridotta perché sicuramente oggi penso soprattutto agli affitti che hanno una rotazione molto più veloce per cui oggi se io devo affittare ma non posso fisicamente vederla a casa neanche una volta o non posso entrarci non è facilissimo. Però vediamo ancora moltissime attività sul nostro portale, noi peraltro siamo in comunicazione anche above the line in questo momento, quindi noi continuiamo a sostenere il business e noi siamo veramente come hai detto tu un business aperto 24 ore e 7 giorni su 7. Anche noi vediamo in modo simile, con dati magari meno eclatanti ma in modo simile a quello che è stato detto un attimo fa, che l'attività degli agenti immobiliari sul nostro portale che noi misuriamo attraverso l'area riservata, anche se è un po' ridotta ma continua a esserci moltissimo. Questo è già uno dei piccoli consigli, questi tempi un po' più rallentati sono un momento per esempio per rivedere bene come sono fatti gli anni nostri annunci, magari correggere alcuni testi, aggiungere delle foto, togliere delle foto, cioè si possono comunque fare quelle tipiche cose che in un certo senso sono un po' le pulizie di primavera, visto che è iniziata ieri e siamo un po' forzati a farle però sono cose utili e qui vengono un po' i miei due piccoli consigli anche presi sulla scorta di quello che noi stiamo facendo in azienda, noi siamo nel mondo immobiliare, non siamo un'agenzia, siamo un'azienda anche un po' più grande magari della media delle agenzie, però credo che ci sono molte cose esportabili e io credo che la cosa da fare prima di tutto in un momento come questo, usando proprio tutti gli strumenti digitali che ci sono dati, a cominciare dai telefoni, dalle camere, dalla larga banda e tutte queste cose, è di cercare di ricreare il più possibile la normalità, ed è stato detto bene prima, se noi per esempio nella nostra attività siamo abituati che a metà mattina abbiamo due collaboratori che sono in giro per Milano, per Roma, per Parma e ci sentiamo per vedere com'è la situazione, bene ovviamente adesso non possiamo essere in giro, però sentiamoci lo stesso, veramente sembrano cose stupide, ma cercare di ricreare dei momenti proprio anche pratici, di normalità è molto molto importante, noi per dire, faccio un esempio in azienda, ovviamente siamo un'azienda un po' più grande, come tutte le aziende un po' più grandi, l'abitudine è di fare la pausa a caffè a metà mattina, noi abbiamo istituito una specie di pausa a caffè virtuale che è una scusa per fare due chiacchiere tra colleghi, mentre prima ci si vedeva di fronte e questo secondo me aiuta e credo che in ciascuno nel proprio business possa ricreare un po' di normalità anche a distanza. L'altra cosa che do come consiglio e credo sia veramente invece importantissimo per il mercato immobiliare soprattutto, è cominciare già a progettare il dopo, noi speriamo tutti che il dopo sia vicino, potrebbe essere due settimane, un mese, adesso ci dicono che non sarà più prima di un mese, ma in un certo senso non importa, però abbiamo veramente il tempo di progettarlo bene, di fare in modo di tornare forti, di avere magari nel frattempo pensato delle cose nuove e avere anche con la scusa di questa emergenza anche ripensato magari il nostro modo di fare business e io credo che il tempo per progettare il dopo sia oggi il tempo migliore che si possa utilizzare. Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo con te Mario. Tiziano, ti lascio campo libero perché so che insomma tu sei nel pieno delle attività, invece sei abituato già con la tua azienda a lavorare al telefono tanto, che è uno strumento semplice, ma ricordiamo che ci accompagna ormai da 130 anni circa e che quindi insomma è sempre attuale. Quali due consigli avresti da dare pratici agli agenti immobiliari? La prima parola come sai, insomma il nostro carattere, il DNA della nostra azienda è non fermarci mai, quindi la parola d'ordine è non fermarsi, questa è la prima parola d'ordine da dirsi ognuno di noi. E poi il primo consiglio, non aspettare che l'onda passi. Con molti clienti parlando mi dicono, gli chiedo cosa stai facendo? Aspetto che l'onda passi. Ma questo non vuol dire avere in mano il proprio lavoro. Non possiamo aspettare che l'onda passi, anche perché nessuno di noi sa quando passerà. Una cosa è certa, gli esseri umani proprio sono fantastici. Nel mondo animale siamo coloro che siamo andati più avanti di tutti perché abbiamo una grande dote, il fatto di adattarci. Possiamo vedere dai beduini del deserto che stanno a temperature, dove si può cuocere veramente un uovo su una roccia, agli eschi mesi, cioè si riesce veramente a fare tutto. Allora cominciamo a farci una domanda, se questa situazione perdurasse per 12 mesi o per sempre, non mi vedete le mani, però insomma sto toccando ferro. Quindi se questa situazione perdurasse per 12 mesi o per sempre, come organizzerai il mio business? Mi devo organizzare come se ci fosse una grande tempesta, poi se c'è il sole sarò il primo ad essere contento. Però vedi non vorrei, non vorrei che tutto questo aumentasse, passatemi il termine, lo metto fra virgolette, la scusa per non telefonare ai clienti, perché già prima in tempi normali la gente immobiliare per fare una telefonata a un privato, una telefonata a freddo, insomma già doveva pensarci. Non permettiamo, non permettiamo che questo grosso, stavo perdendo la parola, che questa grossa confusione ci dia la scusa per non telefonare. Telefoniamo, adattiamo il nostro stile di telefonata. Ma come? Ma lei mi sta chiamando proprio ora? Signora, voglio che almeno al telefono la mia vita sia normale. Capisco il momento. Posso fare alcune domande? Io sono in costante contatto con i nostri clienti e anche stamattina, vedo Andrea da Verona, ce l'ho scritto qua, Andrea da Verona è riuscita a prendere una proposta di affitto da una persona che era veramente in urgenza e ha fatto la proposta di affitto basandosi sulle foto della casa. Ho un'altra persona che lavora qui in Toscana che ha fatto girare i video ai proprietari come se fosse una visita. Cioè l'essere umano è fantasioso. Allora, l'essere umano è fantasioso. Noi italiani anche di più. Se mi permettete siamo fantasiosi al cubo, quindi usiamola questa cosa. Chiamiamo i nostri incarichi. Probabilmente nei prossimi mesi si dovranno ribassare, i prezzi andranno a ribasso. Chiamiamo i proprietari. Ora devo dire anche un'altra cosa. Se c'era un momento perché esplodesse il digitale, direi che è arrivato. Usiamolo, usiamolo tutti, d'accordo? E sono d'accordo. I nostri amici hanno detto ci è stato regalato del tempo, è vero. Ci è stato regalato del tempo e usiamolo bene. Se lo passo solo a progettare mille cose e non entro in azione, quindi occhio alle persone analitiche, rischio di rimanere qui. Oggi non c'è da prendere tante decisioni. C'è da prenderne tre e portarle avanti. Cosa decido di fare? Tre cose. Le porto avanti. Chiamo i miei clienti passati ai centri di influenza. Clienti passati e persone che conosco, li posso chiamare in qualsiasi momento. Anzi, forse ora li fa piacere ricevere la mia telefonata. Questa è la cosa da fare. Quindi organizziamoci. ho degli agenti immobiliari che lunedì porteranno la loro esperienza di queste settimane nei webinar che stiamo facendo. Ho degli agenti immobiliari che hanno acquisito al telefono e facendo la presentazione su Skype. Ho acquirenti che hanno fatto la proposta online ed è stata accettata dai venditori e l'agente immobiliare ha riscosso tramite bonifico. Sono tutte cose che stanno accadendo. Quindi c'è una differenza tra dire aspetto che l'onda passi e dire ok, io mi organizzo e vado avanti. Mi organizzo e faccio le cose. Quindi io vi dico anche questo. Parlavo prima con mia moglie perché qui dentro io sono a casa mia. In una stanza lavoro io, in un'altra lavora mia moglie, in un'altra c'è mia figlia che fa le lezioni online. Mia moglie lavora all'università nel reparto amministrativo e mi ha detto Tiziano dopo pochi giorni sono partite le lezioni online, le lauree vengono date online, il senato accademico viene fatto online, i vari ordini collegiali, i vari ordini collegiali sono fatti tutti online. Quindi buttiamoci, iniziamo a fare perché a me se non concesso che non si chiuda ora, ci prepariamo un grande terreno per il futuro imminente che arriverà e aggiungo che questa settimana già è diversa rispetto alla scorsa. La scorsa settimana c'era grande disperazione. Oggi le persone iniziano ad accettare questa condizione. La prossima settimana sarà meglio e poi meglio ancora e la gente si ingegnerà a continuare a lavorare perché signore, dobbiamo vivere, non dobbiamo sopravvivere. Questo è il concetto. No, hai perfettamente ragione. I casi di successo per chi usa il digitale sono molti, ci sono agenti immobiliari che stanno prendendo incarichi attraverso la firma digitale, c'è chi riesce anche a fare delle locazioni. C'è un caso su Torino, l'agente immobiliare a Torino ha chiuso un contratto di locazione con la visita virtuale. Insomma, tutti strumenti che possono in qualche modo avvicinarci al cliente anziché tenerci distanti. Allora, io sinceramente auspicavo, ma non mi aspettavo questo tipo di affluenza. Ci sono oltre 330 persone collegate in questo momento, decine di commenti che stanno arrivando e saluti, non possiamo citarli tutti. Grazie a tutti veramente. Ci sono alcune domande, però prima di arrivare alle domande di chi ci sta seguendo. Volevo veramente però in un minuto, perché il tempo va via rapidissimo, che così raccontaste al pubblico, a chi ci segue, quali iniziative avete messo in campo oggi per dare sostegno solidale agli agenti immobiliari. Paolo, inizio da te, ma veramente un minuto e mezzo. Perfetto. Allora, guarda, noi proprio ieri abbiamo finito le ultime riunioni di produzione per capire come possiamo aiutare i clienti. Inizieremo con un'iniziativa di solidarietà digitale, anche da parte nostra, verso i nostri clienti, dove apriremo tutti quei moduli del gestionale che solitamente sono a parte, sono messi a pagamento, ma che in particolare i moduli riferiti alla gestione del marketing, quindi invio newsletter, invio comunicazioni, la presentazione dell'immobile, eccetera, che sono quei moduli che solitamente vengono acquistati a parte, quindi apriremo tutti i moduli del gestionale ai nostri clienti in forma ovviamente gratuita per i prossimi mesi. E poi nella prossima settimana faremo anche invece, quindi questo diciamo lo faremo da subito, quindi quando i nostri clienti avranno necessità di utilizzare tutto il incremento della produttività, lo faremo. Invece della prossima settimana inizieremo con una serie di webinar dedicati proprio ai nostri clienti, approfittiamo di questo spazio, di questo momento per fare anche un po' di formazione sul gestionale, ovviamente sempre in forma gratuita, questo dedicato ai nostri clienti che potranno collegarsi ai nostri webinar per approfondire l'utilizzo degli strumenti proprio per la finalità di aumentare la produttività. Questo, sono stato rapido. Grazie, sei stato eccezionale, sei arrivato al punto. Per accedere a questo tipo di servizio, cosa deve fare l'agente immobiliare che magari è tuo cliente o non è ancora tuo cliente? Allora, ovviamente questo è dato ai nostri clienti, ma anche a coloro che vogliono poi diventare clienti nei prossimi periodi. Il nostro sito è ssd.it, è savonassavondomodossola.it, quindi per approfondire le funzionalità ed entrare in contatto con la vostra cliente. I clienti che attualmente abbiamo possono tranquillamente contattarci con i nostri servizi di Alpedesk che sono all'interno del gestionale stesso e possono arrivare tutti i moduli o i moduli che interessano, gestionale che possono, quindi è molto semplice, contattano e apriamo questi moduli alla nostra cliente. Non clienti possono tranquillamente andare al sito.it, perché in realtà il sito è un altro, però è ssd.it ridirezione giusto, quindi lo dico per questo. Possono provare una demo attivandosi a reale, quindi possono andare tranquillamente anche ora sul sito per entrare in contatto con Agime. Poi noi entreremo in contatto con loro, ovviamente per approfondire. Va bene, grazie Paolo. Poi eventualmente ti consiglio di inserire in fondo i commenti e i tuoi riferimenti per un più agevole contatto. Ok? Grazie. Mario, Mario Franci, casa.it. Ma allora, noi prima parlavamo di provare a tenere la normalità e a continuare a fare delle cose che si possono fare anche da remoto. Noi abbiamo un prodotto che per fortuna abbiamo lanciato molto prima di questa crisi, che si chiama Prima Visita. Si chiama così perché ha la caratteristica di essere un modo per visitare un immobile a distanza, ma solo se guidato da un agente immobiliare. Cioè un utente non lo può fare in self-service. Questa è la principale differenza rispetto a molti altri pacchetti che esistono sul mercato simili. e fa l'altra caratteristica che né l'utente né l'agente immobiliare deve avere nessun tipo di software dedicato. Perché praticamente è una piattaforma che pesca le foto dal sito e costruisce una visita, una vera e propria visita. Allora, questo servizio ne l'abbiamo dato, che appunto era già in commercio, l'abbiamo dato gratuito per un mese a tutti i nostri clienti. Se ce ne sarà bisogno, poi questa cosa si potrà anche estendere. E moltissime agenzie ne stanno facendo un uso sperticato, perché onestamente è proprio sembra fatto apposta, diciamo così. E ovviamente l'abbiamo reso poi disponibile anche ai nostri non clienti, nel senso che ovviamente non c'è bisogno di diventare cliente oggi necessariamente. Noi abbiamo, possiamo aprire un pacchetto di prova e quindi questo è disponibile anche per chi non è cliente, ma ed è un, l'abbiamo fatto con, devo dire con molta gioia, perché sembra veramente purtroppo un servizio nato per questi, per questa situazione, perché appunto mantiene la relazione agente-utente, cercatore di casa, però lo fa a distanza. E adesso lo stiamo, tra pochissimi giorni posso annunciare che lo lanceremo anche, normalmente questo servizio utilizza le foto 3D, ed è più bello ovviamente con le foto 3D, ma lo stiamo facendo in un adattamento per farlo funzionare anche con le foto 2D, in modo che sia immediatamente disponibile a tutti i listing, a tutti gli annunci presenti sul portale in questo momento. Benissimo, grazie, grazie mille. Questo è sicuramente apprezzato e gradito, perché è davvero un contributo pratico al quotidiano della gente in un momento così difficile. difficile. Tiziano, io so che, vabbè, tu sei fresco peraltro, insomma, ti non ti sei fatto mancare niente in questo periodo, insomma, hai scelto il momento giusto, per fare rebrand e quindi, insomma, adesso sei make money organization. Sì, nella stessa settimana c'è stato il coronavirus e il cambiamento da Mike Fair Italia a make money organization. Esatto, esatto, e so che non è finita lì perché in realtà hai voluto dare un segnale molto forte agli agenti immobiliari che stanno raccogliendo, devo dire, a due mani, no? E quindi, insomma, hai aperto praticamente i programmi di formazione a… scusate, spegnete l'audio Facebook, non so chi ce l'ha aperto, se no c'è un ritorno fastidioso. Ok. Dicevamo, Tiziano, che hai aperto praticamente la formazione in modo gratuito anche ai non clienti e hai di fatto sospeso, anzi annullato il pagamento della formazione per i mesi di aprile per i tuoi clienti. Insomma, un'azione, devo dire, coraggioso, come dire, adesso mai più. Ecco, Tiziano. Allora, devo dire che dopo dieci anni di crescita continua, ci siamo trovati in questa situazione, quindi con i miei, quelli che noi chiamiamo i nostri coach fondatori e con tutto il team, dopo giorni di riunioni abbiamo preso la decisione di annullare le quote coaching in aprile. Decisione molto sofferta perché vuol dire rinunciare a 300 mila euro circa di imponibile di fatturato. All'azienda, la make money organization, che partiamo subito bene, make money organization e non fatturiamo ad aprile, proprio si va in contraddizione con il nostro nome. A parte questa battuta ci siamo sentiti in dovere di farlo per i nostri clienti. Inoltre abbiamo messo su dei webinar che dureranno per quattro settimane alle 9.30 ogni mattina fino alle 10 con i nostri coach per sostenere questo momento. Tra le altre cose dal lunedì, come ho detto, inizieremo con consigli pratici perché questa grossa community che abbiamo creato, qualcuno di loro stanno ottenendo dei risultati nonostante tutto, quindi li condivideremo. Questa formazione deve essere solo per una ristretta cerchia di clienti, poi ci siamo sentiti in dovere dato il momento di allargarla tutti. Sono seminari, webinar che anche stamattina c'erano 560 persone che lo hanno seguito per 30 minuti e stanno crescendo. Annuncio che martedì ci sarà un gradito ospite che si chiama Pietro Trabucchi, ha scritto libri sulla resilienza. Chi non lo conosce va da Pietro Trabucchi e vedrà il personaggio che è uno psicologo dello sport ed è un allenatore di super maratoneti, cioè coloro che fanno 100-200 km a corsa, allena questo tipo di persone, scalatori estremi eccetera eccetera. Un personaggio veramente interessante che martedì sarà con noi. Quindi abbiamo messo su questa azione, devo dire molto, molto sofferta ma anche ponderata. Siamo felici di averlo fatto perché insomma i nostri clienti ci sono venuti incontro per 10 anni facendoci crescere. È giusto che una volta, dato che abbiamo la possibilità di farlo, andargli noi incontro e farvi vedere quanto veramente gli siamo grati. Oh caspita, un bel gesto anche questo, molto pratico. Allora vedo dai commenti che insomma c'è sicuramente una grande voglia di normalità e c'è chi dice giustamente che i digitali insomma ti può aiutare per un pezzo insomma del percorso ma poi il contatto fisico serve per la consegna dell'immobile, è chiaro questo, lo sappiamo già. Quello che noi oggi dobbiamo però strutturare è proprio cercare di accorciare più possibile il processo di acquisizione del cliente, di valutazione, di prima visita attraverso la tecnologia. Come saranno i prossimi mesi? È uscito un articolo su Milano Finanza che praticamente riporta uno studio del MIT, Imperial College di Londra di fatto, nel quale insomma si racconta, si immagina quello che sarà domani, cioè quando ci ridaranno la libertà, quando saremo di nuovo a piede libero. E di fatto non è detto che si torni completamente alla normalità, potrebbe esserci un lungo periodo in cui le attività sono aperte in modo irregolare, potremmo avere che so io un due mesi di apertura e poi un mese di chiusura, perché finché non arriverà questo benedetto vaccino di fatto, il pericolo di contagio rimarrà una costante per i prossimi mesi. Ecco, questo è il contesto che ci troviamo e ci troveremo di fatto ad affrontare. È evidente che il digitale, quindi il web, gli strumenti che abbiamo a disposizione, i portali, i visite virtuali, i tool di valutazione online, i software gestionali, il telefono, sono tutte cose che in qualche modo ci aiuteranno a tagliare insomma il percorso e laddove ci andavano magari cinque o sei visite, probabilmente ne basteranno due, dovrà essere così. Quindi è importante manifestare grande flessibilità. In fondo a questa live vi posterò quest'articolo che può darvi comunque insomma un'immagine di quel futuro che verrà, soprattutto vi inserisco anche un link ad un sondaggio che sto facendo in questo periodo sull'autonomia finanziaria, un sondaggio anonimo, tranquilli, sull'autonomia finanziaria delle agenzie immobiliari, cioè quanto tempo possiamo reggere se le situazioni dovessero insomma andare avanti così ancora per qualche mese. Mi serve questo dato, ci serve perché farà parte di uno studio più ampio che ha a che fare con le piccole e medie imprese e quindi potremo eventualmente trarre poi attraverso altri specialisti consigli pratici anche sulla gestione della cassa, su come gestire le nostre aziende adesso giorno per giorno per giorno insomma. Allora un ultimo giro di consigli e saluti prima di chiudere perché vi ho promesso 30 minuti e siamo a 39, ne rubiamo ancora tre per un saluto e un consiglio finale, quindi partiamo da Paolo. Sì, è tutto un po' un work in progress in questo momento, quindi consigli credo che ne abbiamo già dati tanti in questa fase, però il consiglio vero che io mi sento di dire è di cercare di rimanere equilibrati e di non perdere la testa perché è veramente quello il rischio a cui andiamo incontro in questo momento dove siamo veramente smarriti, siamo impreparati a una cosa del genere, quindi è molto rischioso perdere la testa, quindi rimanere calmi per quanto si può naturalmente e cercare appunto di sfruttare, tra virgolette se si può dire, questo momento per fare attività che possono essere comunque produttive nel futuro. Questo futuro non sappiamo quando sarà, speriamo il prima possibile, ma chiaramente dovrà esserci un momento in cui tutti ritorneremo a essere operativi come prima. Il mondo cambierà sicuramente. No, certamente. Mario Franci, Casa IT. Ma io ribadisco, cerchiamo di ricostruire la normalità il più possibile usando tutti questi strumenti che sono stati citati lungo e largo in questa mezz'ora. C'è veramente spazio per fare quasi tutto a distanza, ovviamente non si possono costruire le case, non si possono fare alcune altre cose, ma se ne possono fare tante e sfruttiamo, quindi cerchiamo di tornare alla normalità e studiamo, studiamo anche, usiamo la nostra creatività per imparare cose nuove, per andare a provare quella cosa che abbiamo sempre detto, vabbè ma non mi serve, forse in questo momento invece mi serve e magari mi cambierà la vita. Io credo che sono veramente, su questo io sono molto ottimista che per tutti noi, anche privatamente, questa crisi ci darà tanti sacrifici, ma ci migliorerà. Quindi penso che migliorerà anche questo business. Grazie. Mario, senti una cosa, per accedere al servizio di cui ci parlavi prima, tu puoi eventualmente inserire in fondo alla chat su Facebook un riferimento, una mail non qualcosa o preferisci dare? Sicuramente, lo faccio. Grazie. Tiziano? Allora, io penso questo, che il virus prima o poi finirà, tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, finirà. Ma la domanda che dobbiamo farci è, quando finirà nella testa delle persone? Perché farà prima di andare via a giro per il mondo, ma nella nostra testa chissà che memoria lascerà? Quanto ci starà dentro e quanto farà cambiare le abitudini? Io invito ancora una volta, perché poi tutti hanno ragione, no? Non dobbiamo farlo, sì, dobbiamo farlo, poi alla fine sono sempre i numeri quelli che contano. Il concetto è questo, non permettiamo che il virus ingigantisca le nostre scuse, quelle già abituali. Non dobbiamo permettere che questa situazione ingigantisca, amplifichi le nostre classiche scuse per non fare il lavoro come dovremmo farlo. Dovremmo fare il contrario. Certo. Bene, bene. Allora, grazie di cuore, grazie di cuore per il vostro aiuto, per i vostri consigli. La comunità immobiliare apprezza tantissimo il fatto che vi siate, insomma, con coraggio costituiti. Siete le prime tre aziende che sono riuscite a coinvolgere, sono molto contento. Ne arriveranno altre. Il prossimo live, attenzione, adesso oscuro un attimo qualche ospite, prima di salutarli vi faccio passare, anzi, questa immagine sul prossimo live che avremo martedì e avremo come ospite, parlando sempre di tecnologia, Federico Pagliuca, i Realtor per la firma digitale, Massimiliano Pochetti, Casa Share per le valutazioni e per le analisi di mercato e simulare ossidi di Gateway, il portale per vendere casa ai clienti all'estero. Quindi insomma, parliamo di martedì 24 marzo, ora è 14.30 sempre qui su questa pagina. Allora, salutiamo a questo punto tutti gli ospiti che si sono, insomma, prodigati e resi disponibili. Grazie a tutti e, insomma, ci vediamo prossimamente. Tanto, insomma, via live avremo modo, ecco, di vedersi e rivederci perché, insomma, prima degli incontri fisici qualche settimana passerà. D'accordo? Grazie. Grazie a voi. Grazie Gerardo per l'ospitalità e grazie a tutti. A presto. Ciao. 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 Ciao.